Vedete c'è una brutta influenza, uno dei libri più brutti del secolo scorso, il cui autore adesso non mi ricordo ma è stato famoso, è questo signore arvardiano che teorizzò per lungo tempo che sul piano economico i paesi sono sempre in competizione. Vedete non è vero, in particolare sono in competizione le imprese ma le imprese competono in questo mercato o nell'altro dal punto di vista del paese, non è necessariamente dannoso che arrivi a un'impresa estera, se investe nel paese crea lavoro nel paese, genera progresso tecnologico nel paese. Se la proprietà è estera, gli asset rimangono là dove vengono portati, non è che tornano all'estero magicamente nel momento in cui il paese straniero che attraverso questo o quell'altra impresa ha investito decide di cambiare politica. Rifletteteci un attimo, non è che sia sempre e solo una minaccia, ma ripeto, vissuto come una sfida e per fare questo credo che l'opinione pubblica europea, il mondo economico e politico europeo deve cominciare a pensare sempre di più e qui davvero la necessità di pensare europei e pensare in grande c'è proprio. Occorre che pensi come a se stesso, come un continente, un insieme di paesi, chiamatelo come volete, una federazione dinamica che agisce nel mondo per essere una presenza, per sviluppare, per alimentare, per favorire i propri interessi e non è vero che tutte le volte che perseguito interessi economici fai danno al posto in cui li vai a perseguire, dipende dai modi, dalle modalità, dai contratti che fai e dal tipo di investimenti che fai. Si era Porter, grazie, visto che qualcuno gli è avuto in mente il libro, era quel terribile libraccio del competitive advantage of nation di Michael Porter, una delle più grandi stronzate che siano mai state pubblicate e che abbiano avuto successo, un libro completamente sbagliato, da cima a fondo, con un messaggio assolutamente equivoco e infondato.